Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Misericordia, io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete, perché riderete. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati voi, quando vi insulteranno, vi persepiteranno a causa del mio amore. In quel giorno, gioite, rallegratevi, esultate, perché grande è la vostra ricompensa. È stato lungo. È stato lungo. È stato lungo. È stato lungo. Entrando in un villaggio Gli vennero incontro dieci lebrosi che gridavano Gesù, maestro, abbi pietà di voi